Le domande di BlackRock e degli altri asset manager presentati per l'ETF spot Bitcoin sono non chiare ed inadeguate, questa è la risposta iniziale della SEC alla questione ETF di Bitcoin, subito la reazione del re delle criptovalute ma di tutte le criptovalute in generale ragazzi è stata in pochi minuti, circa 20 minuti, meno 5 dai livelli precedenti e all'attuale fase in questo momento meno 3%, una reazione immediata. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, la SEC continua la sua crociata contro i mercati delle cripto e che cosa mancherà, che cosa vorrà dire, queste sono chiare e inadeguate, bisognerebbe andare a leggere sotto le righe per capire queste questioni, che cosa cambia la SEC, una cosa del genere, che cosa vuole perché poi la mancata chiarezza significa anche un po' quel che si vuole, quindi una risposta soggettiva a una problematica che invece dovrebbe avere una risposta oggettiva relativa alle mancanze. Detto questo, il mercato ha reagito molto male e se la questione legata all'ETF spotty Bitcoin della domanda presentata da BlackRock finisse in questo modo, penso che diciamo la benzina che abbiamo avuto a questa, diciamo dovuto a questa news, possa essere finita o finisca diciamo a breve ragazzi, perché è molto importante quella notizia, adesso ne parliamo. Poi nel video vi faccio anche vedere ragazzi la reazione invece di Bitcoin Cash che nell'ultimo mese ha performato in una maniera assurda, incredibile, perché ha portato, si è portato diciamo a questi livelli di prezzo, portate qui quasi 250% dai minimi di giugno. E anche in questo caso ragazzi per quanto riguarda Bitcoin Cash ci sono delle notizie che derivano proprio dall'apertura per esempio di un exchange, adesso lo guardiamo insieme. Allora, iniziamo dall'articolo di Wall Street Journal, dal quale diciamo è uscita fuori questa notizia della SEC ragazzi e poi passiamo ad analizzare anche i grafici di Bitcoin, Bitcoin Cash, cerchiamo di capire che cosa è successo. SEC 6 spot Bitcoin ETF feeling are inadequate. Ragazzi, allora, ancora qui no, queste terminologie poco rappresentative, cioè che cosa significa? Comunque mancano secondo la SEC quelle che sono delle informazioni, informazioni presenti dovrebbero essere non chiare e comprensibili e riguarderebbero la presentazione di tutta la spizza di domande presentate da BlackRock e anche dagli altri manager relativamente appunto alla questione ETF di Bitcoin spot. e in sostanza sembrerebbe anche che, vista che la SEC è dal 2017, che continua a non approvare questi tipi di ETF, potrebbe continuare a farlo anche questa volta. In pratica il dubbio è questo ragazzi, ora cerchiamo di capire anche cosa potrebbe succedere. In sostanza c'è anche da dire che la questione legata, anche alcuni di voi mi hanno chiesto, la questione legata all'ETF spot, che cosa cambia? Ci sono già gli ETF fatti dei future, dei derivati su Bitcoin. Cambia tanto ragazzi, perché l'ETF fatto su derivati non è la stessa cosa dell'ETF sullo spot, in quanto lo spot ha una replica fisica, noi avremo in quel caso un ETF replicato fisicamente da Bitcoin sottostante all'ETF. Questo significa due cose, uno è mille volte più sicuro rispetto a un ETF a replica sintetica o basato su derivati ragazzi. E questo è molto più significativo anche per gli asset managers, che ovviamente lo proporranno in maniera più corposa. Quindi è un ETF migliore da certi punti di vista, può essere inserito anche nei fondi, diciamo in tante altre cose. E poi la replica fisica dell'ETF spot viene fuori anche a un impatto enorme, diciamo anche sul prezzo di Bitcoin, molto di più rispetto a quello dei derivati, perché la replica fisica prevede una massiccia acquisto, fase di acquisto di Bitcoin da parte dei asset managers che vogliono creare il loro ETF spot. Quindi tutti gli asset managers che vogliono creare il ETF spot devono comprare Bitcoin e bloccarlo lì, per replicarlo poi nel loro ETF ragazzi. Questo è un po' un lockhead, noi come siamo abituati a chiamarlo nel mercato delle cripto, però questa volta diciamo fatto a livello istituzionale. Perciò ragazzi se vogliono emettere un miliardo di ETF spot devono prendere un miliardo di Bitcoin e bloccarlo. Cioè questo è sostanzialmente, lo devono comprare sul mercato e realmente averlo. E quindi c'è un cambio estremamente importante da quel punto di vista. Sendo che c'è da comprendere come mai la SEC continua ad essere così negativa. Evidentemente non trova delle condizioni in termini tecnici soprattutto per l'acquisto della fase spot e la custodia. Probabilmente la fase spot sull'ETF non sta in piedi questa cosa secondo quelle che sono le sue regolamentazioni. Oppure c'è proprio una volontà politica a non volere l'applicazione di questo ETF. E' dal 2017, è passati sei anni che continua a negarlo un po'. Questa volta il pressing avvenuto da asset managers importanti come BlackRock, Fidelity, Invesco e Wison3 eccetera. Sono stati, insomma, forse un po' un trampolino di lancio. C'eravamo anche illusi da questa storia. Che cosa potrà succedere? O cambiano le domande, le rendono adeguate secondo quello che la SEC significa, insomma, sta indicando come adeguate. Anche se dovremmo effettivamente capire che cosa significa per la SEC adeguate. Oppure semplicemente fallirà l'ennesima domanda di presentazione dell'ETF di Bitcoin. Questo cosa cambia? Cambia un po', ragazzi. Perché se lo sdlancio di Bitcoin avvenuto in queste settimane, nelle ultime settimane, è dovuto alla questione soprattutto dell'ETF. Io credo che molto di questo sdlancio possa essere riassorbito poi man mano. Ora, vedete, lo sdlancio è stato assolutamente importante. Tra le altre cose, come un segnale utopico, arriva anche quando il mercato nella giornata di oggi è andato a disegnare un doppio massimo. Ma va, 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 va lì. Annaggia, miseria, che cosa? Tiro la moneta perché mi innervosisco con queste cose che vanno proprio. Esce la notizia, è uscito Bitcoin, è uscito un buon lancio, ragazzi. Vediamo che cosa succede. Però, vabbè, non diciamo niente. Allora, proprio in concomitanza con il doppio massimo avvenuto nel massimo del 23 di giugno, scatta la notizia per fargli fare il sell-off. In addirittura l'arrivo di un doppio massimo, sembra una palese sell, insomma, costruito ad opera d'arte. Vabbè, al di là di questa cosa qui, non voglio fare il tizio con la maschera, però sostanzialmente, ragazzi, bisogna comprendere un po' anche questa questione. A livello ciclico cosa cambia? Cambia e cambia anche tanto. Perché, ragazzi? Perché sostanzialmente eravamo in una fase temporale molto rilevante. Perché da qui è iniziato sicuramente un nuovo ciclo mensile di Bitcoin e questo ciclo mensile che io mi aspetto anche corto, lo avevo già accennato, lo aspetto intorno ai 22-23 giorni, cioè molto corto, potrebbe aver già fatto il suo massimo. Cioè, se questa struttura non segue una cosa che è una logica che vi dico tra pochissimo, questo grafico potrebbe aver segnato il suo massimo e quindi andiamo diretti in close del ciclo mensile di Bitcoin e quindi ci aspettiamo una fase ribassista strutturalmente creata, probabilmente così. Io il ciclo mensile di Bitcoin l'ho settato corto, in questo caso per una questione legata anche ai cicli inversi, poi vedremo cosa farà. Se invece la struttura ciclica mensile di Bitcoin è standard intorno ai 30 giorni, potremmo essere in questo frangente nella sua chiusura di metà ciclo. Allora, questa è la visione positiva, cioè quella di prima è la visione negativa e l'ipotesi negativa, negativa relativamente al breve, ovviamente, ragazzi. Stiamo parlando di breve periodo, di qualche giorno, non di cose apocalittiche. In questo caso però dovrebbe essere una versione, diciamo, positiva questa qui perché in questa fase di minimo il Bitcoin potrebbe aver creato la chiusura della metà del ciclo mensile e quindi ci aspetta la seconda metà prima di fare la sua consueta M. Cioè in pratica da qui inizierebbe una struttura di ciclo bisettimanale nuova, di cui andremo ad avere notizie probabilmente, ragazzi, nella giornata di lunedì. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lunedì andiamo a vedere che cosa è successo perché oggi è venerdì, sabato e domenica. Lunedì ci servono per capire questo movimento ribassista proprio nel giorno di oggi se ha chiuso i giochi di un movimento ciclico che è questo da 15 giorni oppure invece ha invertito un movimento che era già iniziato nella scorsa giornata. Cioè esattamente qui, che era un movimento che sembrava avesse un impulso. Tant'è vero che il mercato, vedete, ha fatto e ha costruito nuovi massimi proprio a partire da qui perché questo l'ha fatto dopo, questa zona l'ha fatta dopo. Quindi se questo break ha invertito un ciclo iniziato da qui, allora noi andiamo direttamente in chiusura del ciclo mensile. Secondo me, cioè abbiamo un 7-10 giorni di fase ribassista ed è la ipotesi che vi ho fatto vedere precedentemente. Non c'è un'altra soluzione in questo caso. Se invece questo minimo di oggi è quello corretto e non era corretto quello del 28 di giugno, essendo che sono solo due giorni è possibile una cosa del genere perché c'è una finestra temporale adeguata, allora possiamo aspicare, a ritentare di salire verso i 31k, ragazzi. Altrimenti il Gerson Ferry non va più, si va giù. Questo ce lo accorgiamo dai prossimi due giorni perché se il mercato non ha più forza di risalire intorno ai 31k, si ferma lì e inizia a tentennare e lì, ragazzi, prendiamo respiro per almeno una settimana, dieci giorni. Poi si vede se appunto questo movimento rialzista ha finito il suo turbo, ha finito la sua benzina e lì dobbiamo tirare su una serie di conclusioni perché abbiamo fatto i massimi nella seconda fase del ciclo semestrale di cui stiamo parlando. Andiamo verso la chiusura del ciclo annuale, le questioni vengono complicate. A luglio c'è una schianza ciclica importante per molte cripto come Matic, BNB e altre criptovalute che vanno a chiudere il ciclo annuale, insomma è molto complesso ma è inutile fasciarci la testa prima del tempo quindi vediamo in questi due giorni che cosa combina. Io ancora propendo per la versione long in questo caso e se ovviamente da qui a domani dopo domani cambia un po' il vento e inizio a vedere dei trend più pronunciati a ribasso, chiudo tutto e scappo al mare. Ne vado proprio alle BAMAS che c'era quello lì, c'era quel tizio che aveva l'exchange di FTX. Vado alle BAMAS e io dubbo Fettoni. Pappa, 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 quel deficiente. Va bene, detto questo passiamo a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ragazzi, Bitcoin Cash 258% dal minimo di 10 di giugno fino al massimo di oggi che ovviamente sta un po' ritracciando ma comunque ragazzi anche sui livelli standard vedete di oscillazione del prezzo medio 170%. Che cosa è successo? È successo questo. Tutte le criptovalute che sono collegate a Bitcoin hanno iniziato a pompare in maniera importante addirittura anche Bitcoin Gold, Bitcoin BSV, cioè i vecchi fork di Bitcoin che praticamente non hanno senso sono iniziato a pompare senza così ad libitum. Allora questa cosa qui è dovuta principalmente al fatto che probabilmente c'è stato un effetto rebound su quello che era la questione dell'ETF e cioè il concetto ovviamente, il fatto che se gli istituzionali vanno all'interno di queste cose poi possono creare alternativamente nuovi ETF contenenti per esempio tutti gli strumenti che sono forchi di Bitcoin, potrebbero creare degli ETF contenenti invece le top 10 delle criptovalute, escludendo per esempio quelle cripto che sono invece totalmente detenute e che la SEC ha dichiarato come essere delle security o comunque detenute dagli exchange come BNB per esempio CRO o quant'altro perché di proprietà allora a quel punto lo escludono, però quelle che sono criptovalute un po' dovute alla logica Bitcoin che è stato dichiarato non essere una security hanno pompato Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin BSV e Litecoin anche ha fatto il suo, insomma in linea di massimo quindi abbiamo un po' l'effetto riflessivo classico emotivo dei mercati ma poi sulla questione di Bitcoin Cash c'è anche un'altra questione ragazzi cioè l'exchange ADX Market che in pratica è un exchange che viene acquistato da eccolo qui ragazzi l'ho trovato da Staub, Sitadel, Fidelity eccetera, se puoi eccetera in pratica questo ADX Market deve essere un punto di trading di questi exchange nell'ambito delle criptovalute e questo exchange qui, questo broker qui ragazzi sta in pratica andando a tradare cioè metterà il trading su Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash quindi anche la questione legata a questo broker ADX Market ha fatto, ha creato il pump su Bitcoin Cash se nonché anche una questione legata per esempio al fatto che alcuni dicono che i coreani sono in mezzo a questa cosa perché su Upbit, Bitcoin Cash in pratica ha avuto una iper quotazione in termini di moneta coreana adesso ragazzi devo trovarla perché non so dove sia ragazzi ve la faccio vedere da CoinMarketCap vedete su Upbit in KRV la moneta coreana in pratica c'è stato un'impennata enorme dei volumi e quindi sembrerebbe anche legato al mercato coreano la questione di Bitcoin Cash vabbè in ogni caso ragazzi anche a livello grafico qui siamo davanti ad un rimbalzo importante assolutamente pronunciato quindi bisognerebbe ragionare anche di strutturalmente di inizio di nuovi cicli anche su Bitcoin Cash che al 100% qui avrà iniziato un nuovo ciclo annuale per la tipologia di altri poi bisognerà capire appunto se vediamo se riusciamo a trovare anche più storico di Bitcoin Cash se non erro stava su Poloniex anni fa eccolo qui un pochettino più evidente su Poloniex allora anche questo grafico ragazzi prevede sostanzialmente una fase ciclica diversa io non trato queste cripto se volete fare trading su queste criptovalute va benissimo se li avete in portafoglio calcate il trend però sono tutte news dovute alle cose insomma che vi ho accennato quindi poi in effetti può essere interessante entrare su queste criptovalute a favore di trend ma solo a modi speculazione quindi io come sempre non do consigli finanziari ma vi spiego che holding o cose del genere inventandosi storielle su cripto escludendo Bitcoin e un po' ETH ve lo ripeto da quando ho aperto il canale sono passati 5 anni non ha senso secondo me però poi ognuno fa quello che vuole ma ha senso il trend follower quindi in questo caso è un trend follower gigantesco quindi se siete long e avete tradato Bitcoin Cash restate long perché guardate qui che cavolo di trend va bene allora per oggi è tutto buon weekend a tutti quanti e incrociamo le dita vediamo se l'ipotesi positiva di Bitcoin avrà senso domani o dopodimani avremo notizie fatemi sapere anche voi cosa ne pensate chi di voi è esperto in analisi ciclica può darmi anche la sua dritta nei commenti del video per oggi è tutto buon weekend ciao raga ciao